Salve, sono un consulente alle vendite di un concessionario John Deere. I tempi utili della macchina sono la priorità assoluta per i nostri clienti. Noi li garantiamo attraverso il nostro servizio di monitoraggio costante da remoto della macchina. Il monitoraggio da remoto della macchina è un elemento importante dei nostri servizi FarmSight in Base. Questo servizio FarmSight si basa sulla connettività della macchina e sulla tecnologia innovativa di John Deere. Per l'abilitazione necessaria la vostra autorizzazione potrete gestire facilmente i vostri dati e le postazioni del vostro account tramite l'applicazione di gestione Consensi su My John Deere in qualunque momento. Dopo aver fornito il vostro consenso, il concessionario John Deere potrà fornirvi tutti i servizi per il monitoraggio da remoto della macchina. Mentre lavorate sul campo, noi monitoriamo costantemente le funzioni operative principali della vostra macchina e possiamo fare in modo che si verifichino meno interruzioni possibili. I nostri esperti tecnici addetti alla manutenzione sono in grado di identificare le anomalie di funzionamento imminenti prima che il guasto si verifichi effettivamente. In caso di problemi, vi informeremo immediatamente, prenderemo disposizioni per tutti i pezzi di ricambio necessari e organizzeremo un appuntamento per il momento che più vi conviene, per esempio durante il prossimo giorno in cui piove. Siamo una concessionaria John Deere e possiamo offrirvi un controllo professionale evitando danni conseguenziali alla macchina e tempi morti. Lavorate senza interruzioni e spiacevoli sorprese grazie ai servizi FarmSite forniti dal vostro concessionario John Deere.